Buon ciao raga benvenuti dal vostro nonno della rete con due due palle e seriamente sono due sfere del drago due palle due palle due boll sono in inglese una pokeball e che cosa sono queste che cosa cosa intendiamo è un'idea no e vabbè questa è la collezione delle pokeball la scatola della collezione pokeball no lo so ma visto che tutte una era la super ball ah qual è una premiere ball questa qui dovrebbe essere una non lo so ball non lo so chi lo sa di me io sono più giocatore non sono amante di pokemon perciò è il fatto che queste pokeball da quello che so per un giocatore non servono a niente nulla tranne alla monetina di riders ok mettiamo una tua nel frattempo che si fra cerca ah si la quick ball la quick ball la nesquick ball la nesquick ball si però non puoi vedere cioè allora parte che mo seriamente non per dare seguito io sto con frederick a questo punto buttate le ste monete che servono se uno compra allora uno compra questi no ora ok per l'espansione dell'esteso per il formato esteso però due guadagnine cioè non le facevate prima tutti i guadagnine da scendere le fate mo ma perché la monetina di niente se ne sono 48 ovunque ma poi le altre ball non è che uscivano le gatterie xy ok usciva forse evoluzione però non così esagerato veramente raga boh vabbè e guarda che non sei nemmeno molto entusiato non lo sai che non trovi cioè si pure che puoi trovare pure la miglior hyper però noi regaliamo l'energia eh l'energia il codice si regaliamo pure l'energia è basata a trani codice io non ho trovato niente io nemmeno un vanillette ma attento non troverò mai niente non ci sarà mai una cosa per fare boom un'energia il codice 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 che hai detto che ultima bustina vai è bello che pure se noi almeno faccio uscire qualcosa qualcosa no 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 non ci credo non ci credo mamma mia questa cosa è fatta solo con queste carte non c'è niente no io non ci credo e te pure? no poi capirete se avete visto gli altri miei video capirete no 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 ma che ce le vuole non mi ricordavo che la dichiaro ahahah ho sbustato di nuovo con mo GX dopo uh allora vi dico spero che avete visto quel video che mi è uscito con mo GX e forse il miglior video che ho sbustato lasciando stare un altro che lasciamolo stare però ho perso lo stesso e mo mi è uscito con questa gomma GX che non ci resta che ridere altro che non ci resta che piange e niente lasciate un like forse e non fate girare le borse e vi lasci una monetina al prossimo video iscrivetevi al canale ciao ciao